Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Marvel. Come molti di voi sapranno, uno dei miei primi video versioni sul canale fu proprio sul dio del tuono Thor. Ma visto che nei primi video sembrava che non avessi un'anima e che in questi 4 anni il personaggio è maturato tantissimo a livello fumettistico, ho deciso di riportare nuovamente un video su Thor e sulle sue versioni di Terra 616. Una cosa da precisare, se sentite questo fruscio, è perché c'è caldo e ho il ventilatore. Come sempre, prima di iniziare, vi dite iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguimi in tutti i miei social, compreso TikTok, per rimanere sempre aggiornati sul mondo supereroistico. Oltre a questo, vi ricordo che utilizzando il codice promozionale GEDARU20 nel link di Pamplink che trovate sempre qui sotto in descrizione, potrete ottenere incredibili omaggi a Tema Nerd. E affrettatevi perché ci sono gli sconti estivi. Detto questo ragazzi, non perdiamo altro tempo. A voi il video. Buona visione! Prima di iniziare, vi devo consigliare dei video molto importanti per il personaggio di Thor. Questi video sono i Dieci Regni di Asgard, Origine e Curiosità, dove vi spiego la nascita del Regno Non Reno e tutti i Dieci Regni, se sono dieci e non nove, presenti nell'albero del mondo. La seconda puntata del podcast, intitolata Entità Marvel, dove si parla della madre biologica, o perlomeno così si pensa, del Dio dei Fulmini. Mjolnir, Origine e Versioni, dove vi racconto molti dettagli sul famoso martello di Thor, ma soprattutto delle sue controparti multiversali. Loki, versioni alternative, video vecchiotto ma interessante. Per capire a grandi linee chi è Loki e che rapporto c'è col suo fratellastro Thor. E per ultimo, Thor, versioni alternative. Il primo video citato poco fa, dove sono presenti versioni che non mostrerò in questo video, ma che meritano di essere conosciute. Ripeto, il video è vecchiotto ed era ingenuo. Oltre a questi video, vediamo di chiarire bene il reparto parentele di Thor e la sua incredibile infanzia millenaria. Naturalmente, ci tengo a precisare che in questo video si parlerà della mitologia norena Marvel, che, come potrete immaginare, è molto diversa dalla mitologia norena classica. Quindi cerchiamo di non confondere le cose. Partendo dagli albori della mitologia norena, tutto l'albero genealogico del Dio del Tuono parte, o perlomeno così si pensa, dal primo gigante di ghiaccio, Ymir. Questo possente primo o dio dei giganti di ghiaccio è l'essere, a parte il gigante di fuoco Surtur, più antico dei dieci regni posti nell'albero del mondo conosciuto come Yggdrasil. Detto questo, non si sa come o quando Ymir abbia creato una possibile progenie. Ma secondo i racconti provenienti dalle antiche sale di Asgard e i dieci regni, dalle sue carni e figli nacquero vari tipi di razze. Queste, passandomi il termine razze, sono i giganti, ghiaccio, tempesta, montagne eccetera, i Vanir, esseri straordinari che governano il Panteon Norreno insieme alle altri dei, esempio Frigga o Freya, e gli Haesir, da cui proviene Odino e suo figlio Thor. Ma come sempre, spieghiamoci meglio. Tra questi nuovi esseri nati dal gelo, uno di loro ci interessa di più. Buri, il primo o il terzo, essere diverso da un gigante di ghiaccio. Questo possede guerriero trovato nel punto più a nord delle nebbie ghiacciate e oscure di Niflehem, crebbe forte e coraggioso insieme ai primi giganti, prendendo come moglie una di loro e continuando la sua stirpe di esseri straordinari. Da quest'unione nacquero Mimir, Bor e Nihord, degli dei con delle capacità che vanno oltre l'immaginazione, e i fondatori delle prime dinastie reali e della conoscenza. Dico conoscenza, perché Mimir non ebbe mai una sposa o addirittura dei figli, ma grazie ai suoi poteri precognitivi e alla sua testa, Odino ottene una saggezza senza eguali. Ma di questo ne ho parlato nel video dei Dieci Regni. Proseguendo con Bor e Nihord, questi due fratelli sono effettivamente i primi Haesir e Vanir. Dico questo perché dopo che Buri fu sconfitto da Bor e donò il regno di Asgard a quest'ultimo, Nihord abbandonò la sua dimora e suo fratello per crearsi un regno tutto suo conosciuto come Vanheim, sposando la gigantessa di Ghiaccio Scadi e formando i Vanir. Tornando a Bor, quest'ultimo sposò la gigantessa Besla, facendo nascere quattro giovani marmucchietti conosciuti come Kul, Vili, Vè e Odino. Sì, quell'Odino. Soffermandomi in modo veloce su questi quattro fratelli, la vita di quest'ultimi è unita da un unico filo conduttore, che, come potrete immaginare, è la battaglia. I primi due, Vili e Vè, combatterono al fianco di Odino durante la prima battaglia contro i giganti di Ghiaccio e il possente Surtur, morendo in questa battaglia contro il gigante di Fuoco Primordiale, ma donando al fratello Odino una forza incredibile grazie ai loro spiriti, conosciuta come Odin Force. Purtroppo, per questi due dei, non sono apparsi moltissime volte nelle pagine Marvel, ma sappiamo, quasi per certo, che in vita erano più forti e potenti del loro stesso padre, Bor. Proseguendo, abbiamo il primo genito di Bor, Kul. Questa divinità, chiamata anche il Dio della Paura, è creato prendendo spunto dal serpente Nidhog, quello che rosicchia le radici dell'albero del mondo, durante l'adolescenza fu scaraventato giù da un dirupo da dei giganti, venendo ferito gravemente alle gambe e vedendossela davvero brutta. Questa vicenda portò il giovane Dio a trascinare le sue stanche membra per centinaia e centinaia di metri, bramando solo vendetta per i mostri che le causarono tanto dolore. Questa bramosia di regolare i conti con i giganti lo portò a trascinarsi fino all'accampamento di questi ultimi, uccidendoli uno dopo l'altro, tranne uno, e nutriendosi con il loro sangue. Questa scena alla Dracula fu il primo tassello per diventare la nuova personificazione della paura, ma per saperne di più vi consiglio la serie Fear Itself. Ma questa è un'altra storia che vedremo nel video sul padre di tutti. Detto questo, infine, arriviamo al papino del Dio del Tuono, Odino. Apparsa per la prima volta nel 1962, questo potente e onnisciente padre degli dei è uno degli esseri più potenti e potenziati della mitologia norrena a Marvel, venendo adorato da molti suoi sudditi e temuto da molti suoi pari. Atum Re, altro nome del Dio, come i suoi antenati, cercò di popolare i Dieci Regni al Meglio, dando alla luce molti bimbi e adottandone altrettanti. La progenie conosciuta finora è Thor, il Dio del Tuono di cui parleremo fra poco, Vidar, un forte guerriero nato dall'amore di Odino per la gigantessa della tempesta Griglia, Balder, figlio della Dea Freyja e tassello per spigionare il Ragnarok, Tyr, altro figlio della Dea Freyja e del primo dio della guerra, Norreno, Hermond, un dio conosciuto per la sua incredibile velocità e forza, Aldrif, primogenita del Dio Odino e della Dea Freyja. Una cosa da sapere su questa guerriera è che fu rapita dalla sovrana del decimo regno Even, o Even, e questa vicenda fu il solo e unico motivo che portò il padre degli dei a esiliare un intero mondo per le colpe della sua sovrana. E per ultimo, ma non per importanza, la Ussa, la secondogenita di Odino, ma anche la più sfortunata. Dico questo perché dopo la sua nascita, la bimba venne rapita e portata nel limbo da sua sorella Angela, altro nome di Aldrif, e lasciata lì per qualche tempo. Oltre loro abbiamo anche i figli adottivi, come le varie versioni reincarnate di Loki, e il dio della tempesta, Roger Red Norveld, che impugna un martello uguale e potente come il Mjolnir. Ma andiamo avanti perché questa è un'altra storia. Un'altra cosa da precisare su Thor e la sua famiglia è che non si sa per certo chi sia la madre di quest'ultimo. Dico quasi perché delle voci narrano che durante la storia Avengers 10.000 a.C., Odino conobbe la prima incarnazione della Fenice. Questa donna, conosciuta come Firehire, capelli di fuoco, ebbe una storia amorosa col padre degli dei, facendo pensare a tutti i fan del dio del tuono che quest'ultima sia sua madre. Questo che ho appena detto è stato quasi del tutto smentito dalle storie moderne della casa delle idee, che felice di rendermi la vita impossibile, cambia storie e versioni in continuazione. Esempio Venom, ma chiariamo il perché. A quanto pare la madre reale dello zio del tuono è Gaea, o Gea, la dea madre o dea terra che si materializzò a Midgard insieme al resto degli altri dei antichi. Questa personificazione della vita e della terra costruì nel corso dei millenni i modelli geografici di Midgard insieme a suo fratello Kton. Detto ciò, Gaea è la madre di molti dei delle varie religioni sparse per il multiverso Marvel, unendo molti esseri divini in una grande famiglia unita. Esempi basilari sono il dio Ragno Hom, video su Madame Web per saperne di più, Persephone, un'olimpica figlia di Zeus che ci catapulta a Thor Love and Thunder, lo stesso Thor, Amun-Ra, il re degli dei egizi, che ci catapulta a Moon Knight, Kanaloa, il dio dei mari polinesiano, e chi più ne ha più ne metta. Ma promesso che vi porterò un video subito dopo l'uscita di Thor per non farvi spoiler. Finita questa premessa chilometrica ma doverosa, finalmente andiamo con le versioni. Oh, quasi. Terra 616, classic Thor. Apparso per la prima volta nel 1950, nel comics Venus numero 11, e nel 1962, nel comics Viaggio nel mistero numero 83, questo potente dio del tuono è un essere proveniente dalla razza degli Asgardiani, che, originari di Asgard, hanno alimentato incredibili storie e la mitologia norrena con le loro gesta epiche. Ma come sempre, andiamo nel dettaglio. Nato millenni prima delle sue gesta visibili nei comics Marvel, Thor è figlio di Odino e della dea antica Gea, ed è il solo e unico collegamento, o quasi, tra Asgard e il pianeta Terra. Come già c'è nato nel reparto parentele, Gea, o Yord, altro suo nome, è sovrana della vita e della Terra, e questo fece prendere la decisione a Odino di generare un figlio derivante dal potere di questa dea. Nato in una grotta situata in Norvegia, Thor mostrò un'incredibile forza fin dalle sue prime ore di vita, rendendo suo padre e sua madre orgogliosi di lui e speranzosi per il suo futuro. Crescendo ad Asgard con sua madre adottiva Frigga, Ophreia, suo padre Odino, suo fratello Astroloki e altri tantissimi guerrieri asgardiani, Thor fu spedito nel regno di Halfaheim per essere trasformato in un formidabile guerriero e imparare ad essere un re giusto e benevolo. Ma ci arriveremo in seguito. Secondo le storie narrate sull'infanzia, a tratti misteriosa, dello zio del tuono, quest'ultimo vide per la prima volta il suo futuro Martello Mjolnir all'età di otto anni, quando andò insieme al suo padre e il suo fratellastro Loki a Nidavellir, il regno dei nani. Durante questo viaggio vide la creazione del formidabile Martello, ma anche il potenziamento e le svariate protezioni magiche che il padre degli dei impose nell'arma. Come sappiamo, uno di questi incantesimi consiste che per impugnare Martello bisogna esserne degni e aver compiuto gesta valorose a spasso per i dieci regni. Come potrete dedurre, il dio Fulmineo ci mise numerosi secoli ad essere degno di quel Martello, facendosi un nome prima con la famosissima ascia Jarnbjorn e salvando numerose volte Asgard e i suoi alleati. Una delle storie più famose e iconiche del giovane Thor è quando se la vide con il colossale Apocalisse, che molto più forte di lui sconfisse il dio Biondazzo molto facilmente. Come potrete dedurre, questa battaglia portò Thor alla vittoria in un secondo momento, quando grazie all'aiuto di Kang decise di benedire col sangue la sua formidabile ascia, dandole la facoltà di penetrare e distruggere qualsiasi tipo di armatura, compresa quella dei Celestiali. Facciamo un salto avanti di millenni e arriviamo fino all'era moderna. Una delle prime gesta del Fulmino Thor in quest'era è tratta dalla Seconda Guerra Mondiale, dove si vedrà il dio combattere al fianco di zio Adolf contro Capitano America, Namur, la prima torcia umana, Speedfire e Union Jack, usando i suoi poteri per la fazione sbagliata. Questo che vi ho appena raccontato ci fa capire che la bramosia di potere e il suo meriferghismo a momenti alterni di fare la cosa giusta trasformò il dio biondo in una divinità a tratti crudele che amava solamente fare la guerra e buttare giù i denti col suo inseparabile martello. La parola inseparabile, come saprete dai film e capirete da quello che vi sto per dire, è tutto l'opposto di quello che accadde. Ma perché? Odino, scontento di suo figlio e di quello che era diventato, decise di punire quest'ultimo e insegnargli l'umanità, spedendolo sulla terra nel corpo di un medico zoppo conosciuto come Donald Blake e privandolo dei suoi poteri e della sua memoria. Divenuto mortale, Donald intraprese la strada della medicina chirurgica, aprendo il suo studio privato a New York, ottenendo un'ingredibile fama superata da poche persone, tra cui Dotto Strange, e conoscendo una donna molto importante per lui, Jane Foster, ma di lei ne parleremo dopo. Passarono gli anni e Odino, ormai visto del bene nel cuore di suo figlio, decise di portare con l'inganno l'ex dio in Norvegia, dove celato ai comuni mortali si trovava il martello. Questo viaggio, davvero inverosimile, portò Donald a essere di nuovo un dio, sconfiggendo la razza aliena pietrosa conosciuto come Crona e salvando la terra con i suoi nuovi, per modo di dire, poteri. Da questa storia ad oggi, il possente Thor visse incredibili storie con i suoi alleati, tra cui gli Avengers, incontrò altri dèi del tuono come Beta Ray Bill, Jane Foster o Thunder Strike e sconfisse tanti esseri e entità malvace che lo portarono a diventare uno degli esseri più potenti dell'universo Marvel. Le storie che vi consiglio sono la serie regolare di Thor, che potete trovare in qualsiasi fumetteria, fisica o online, Thor, le origini del mito, dove troverete le origini di questo formidabile dio e del suo mito norreno, la serie la potente Thor, dove scopriremo le gesta di Jane Foster e la sua ascesa come Dea del Tuono, le varie ristampe delle storie di Thor, ristampate e pubblicate dall'Appenini Comics e che trovate nel sito, a livello collezionistico Thor, il dio del tuono, in due versioni del 2017, carine da avere ma con niente di speciale, Beta Ray Bill, stella d'argento, che ci mostra un'incredibile versione se è uno sei e amico del dio del tuono, la serie regolare del 92 del dio del tuono, dal numero 34 che ci mostra Thunder Strike, un nuovo dio a forte e alla moda conosciuto come Eric Masterson e il suo figlio Kevin, ma ne parleremo in un altro video, la storia non più degno dove vedremo Thor perdere il suo martello, la serie La Guerra dei Regni dove vedremo tutti i dieci regni uniti in un'unica storia e per ultimo Il Macellatore degli Dei, da cui è tratta, o quasi, la storia che vedremo nel prossimo film di Thor. Oltre queste storie ce ne sono una marea, compresi Mastev, ma vi sconsiglio le serie Io Sono e bla 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 se non avete mai letto nulla sul personaggio. Dico questo perché questi cartonati belli da vedere sono interessanti a livello collezionistico, ma al suo interno ci sono storie messe alla rinfusa senza nessun collegamento tra loro. Finendo la parte consigli arriviamo finalmente agli abilità e ai poteri di Thor. Quest'ultimo, essendo un Asgardiano, grazie alla sua fisionomia più densa degli esseri umani è molto più duraturo e resistente di questi ultimi, riuscendo a vivere millenni e millenni senza invecchiare un giorno. Oltre questo, la sua densità corporea gli donò una forza, resistenza, velocità e durabilità fuori dal comune. Possiede un fattore di guarigione da non confondere col fattore rigenerante molto più veloce del normale è quasi del tutto invulnerabile, può controllare il tempo o meteo e certi tipi di energia, può volare anche senza il suo martello o il suo famoso carro trainato da delle capre divine e sa parlare ogni tipo di lingua presente nel cosmo. Oltre questo è un ultimo guerriero stratega e immune alla telepatia è molto più intelligente di molti geni terrestri quindi non è tonto come la sua controparte filmica e possiede la pirocinesi l'abilità di creare e maneggiare il fuoco cosmico. Oltre questo nella sua storia editoriale Thor è stato potenziato più volte da moltissimi artefatti asgardiani come la cintura della forza di cui ho fatto un video su TikTok il famoso braccio di Uru e del distruttore quando perse il suo in battaglia la sua prima ascia già citata a inizio video e in un video su TikTok la spada di Odino e tanti tanti altri cimeli ma questa è un'altra storia. Terra se uno sei Jane Foster Partiamo con la protagonista del nuovo film sul dio del tuono Jane Foster apparsa per la prima volta nel 1962 nella serie regolare di Thor Jane era una ragazza proveniente da una semplice famiglia americana crescendo fino all'età di 8 anni con i suoi amati genitori dico fino agli 8 anni perché in questo periodo la madre della futura dea del tuono morì di cancro lasciando lei e suo padre soli e senza una parte importante della famiglia questo luto improvviso e tanto 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 doloroso unì ancora di più padre e figlia che cresciuta tra l'amore incondizionato di suo padre frequentò la facoltà di medicina diventando una bravissima infermiera purtroppo per la povera Jane questa storia bella ma strappa lacrime finì con un altro importante lutto nella sua vita suo padre morto di infarto facendo un salto avanti di qualche tempo Foster venne assunta come infermiera dal medico chirurgo Donald Blake alter ego di Thor iniziando a tessere un filo conduttore indistruttibile che univa la sua vita alle gesta del dio dei fulmini come potrete dedurre questo personaggio rimase molto marginale nelle storie Marvel instaurando un rapporto amoroso con il dio e amandosi a momenti alterni come solo beautiful sa fare catapultiamoci fino al 2014 durante la serie Macellatore di Dei a Jane venne diagnosticato un terribile cancro al seno che la portò inesorabilmente a peggiorare giorno dopo giorno questa scoperta a dir poco devastante arrivò a Fagiolo con la perdita del Mjolnir da parte di Thor che tornato a impugnare la sua prima ascia lasciò il martello perché non si poteva spostare sulla luna una cosa da sapere sul martello è che possiede una sorta di mente propria che sempre alla ricerca di un padrone richiama a sé i più meritevoli come potrete dedurre la chiamata cade sulla testa dell'ex fiamma del figlio di Odino questa chiamata sempre più forte portò Jane a contattare il dio Heimdall e chiedergli di portarla dal martello sollevandolo con tutta la sua forza e diventando la nuova dea del tuono in queste sembianze a dir poco divine e muscolose Jane visse le serie fumettistiche guerre segrete e Secret Empire ma la stoccata finale arrivò durante la storia la morte del potente Thor trovabile anche su Amazon a 23 euro in questo racconto troveremo Jane peggiorare col suo cancro in modo esponenziale per colpa del martello e oltre a potenziarla le causò una metastasi di quarto grado scoperto questo la donna decise di abbandonare il martello con il consiglio del dottor strano ma come si sa le cose non vanno mai come si spera dico questo perché in questa storia oltre questa scoperta arrivò anche una nuova minaccia che portò Jane a impugnare di nuovo il martello e andare contro la sua salute per salvare moltissime persone ora non vi dico come finì la storia ma sappiate che oggi Jane è una formidabile valchiria al servizio di Asgard Terra 616 Beta Ray Bill apparso per la prima volta nel 1983 nel comics Thor numero 337 Bill è un alieno potenziato proveniente dal pianeta Corbin una terra distrutta da Surtur e originaria della galassia infuocata i superstiti di questa incredibile stirpe di guerrieri decisero di abbandonare i resti del proprio pianeta e scegliere tra i suoi guerrieri un protettore la scelta cade proprio su Beta Ray Bill e potenziato ciberneticamente a livelli esponenziali diventò un essere molto potente temuto ma giusto una cosa che non si sa su Beta e le sue prime storie è che le sue battaglie galattiche sono assistite dalla corazza artificiale chiamata Scuttlebutt che oltre a sostenere il possente essere dalle sembianze equine sardi all'ascolto state calmi sceglie i bersagli da sconfiggere uno dei primi bersagli visti nei comics fu proprio Thor che ritenuto una minaccia se la dovette vedere contro Bill e i suoi incredibili poteri durante questa battaglia Beta Ray Bill prese letteralmente a calci il dio del tuono che divenuto di nuovo per sbaglio un essere umano venne messo KO dal possente Bill vincitore e inarrestabile Beta rivendicò il martello come trofeo di guerra ma Odino che non si perse nemmeno uno schiaffo durante lo scontro portò entrambi ad Asgard per testare la loro volontà questo test consisteva nel lanciare i due personaggi nel regno infocato di Skarthheim e farli combattere fino alla morte per il martello anche qui Bill finse quasi a mani basse sconfigendo Thor e tutti i suoi fulmini ma non prendendosi la sua vita come già detto Bill è un personaggio forte temuto ma buono quindi ormai vincitore decise di risparmiare il suo nemico questa scelta ricca di rispetto e altruismo convinse Odino della sua bontà d'animo e decise di donargli un martello tutto suo chiamato Stormbreaker quest'arma contrariamente da quel che si pensa non è d'oro ma come l'originale Mjolnir è fatto di uru forgiato su una stella morente una cosa che mi viene chiesta spesso è quale di queste due armi sia la più forte la risposta a questa domanda ci catapulta direttamente alla serie regolare di Thor del 2020 quando un dio del tuono potenziato all'ennesima potenza da Galactus distrusse lo Stormbreaker con un colpo netto del martello ora non so se questo è accaduto grazie al dio o del potenziamento da parte del divoratore di mondi ma una cosa è certa il martello di Bill ora è in mille pezzi detto questo nella sua storia editoriale Beta fissa incredibili storie in giro per la galassia ma ne parleremo se vi va in un video su di lui come poteri Bill possiede gli stessi del dio del tuono ma grazie al suo potenziamento cibernetico in certe storie è anni in luce più forte di Thor ragazzi questo video termina qui so che ci sono una marea di degni nella terra 616 ma sto video era abbastanza lungo così? no? detto questo se il video vi è piaciuto sapete già cosa fare lasciare un bel like condividere e iscrivervi al canale naturalmente attivando la campanella per non perdervi nessuna novità vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate sempre le mie pagine social compreso anche il link di pampling e il video che vi consiglio e ancora più sotto nell'area commenti potete scrivervi cosa ne pensate di questo video ma soprattutto di questi personaggi detto questo come sempre saluterò le 15 persone che mi hanno commentato nello scorso video con l'hashtag richiesta quindi ragazzi salutiamo Gaetano Lico Riccardo Lovino Carl E.T. Pro Distraction più Aceto Leo The Wolf Artus Luca Consiglio 98R8 Francesco più Cartucci Hey Shark Carmageddon Vincenzo Risi Matteus Spider Golden Io sono Batman Elena Rossi ragazzi se avete stato salutato anche voi nel prossimo video commentatemi qui sotto con l'hashtag martello ma soprattutto rispondendomi alla domanda secondo voi oltre Jane e Thor apparirà anche Beta Reveal? fatemelo sapere qui sotto nei commenti detto ciò ragazzi grazie ancora per aver visto questo video noi ci siamo qui sempre a questo canale fatto di origini versioni curiosità e TG Nerd ciao ragazzi alla prossima dove vi racconto molti dettagli sposando alla gigantesca gigantessa che come potrete immaginare è la battaglia questa è la battaglia la battaglia di ma anche te è venuta in mente sono le mani e vedendo sarà davvero brutta ma brutta 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 è tassello per sprigionare il Ragnar nato millenni prima delle sue gesta visibili nei comics Marvel che poi tu non mi vedi ogni volta che fai così io ti faccio così come se tu mi vedessi vai suo padre Odino il suo fratello Astro Loki e tantissimi altri guardieri cosa molto rara negli universi cosa molto rara niente lascia perdere vai detto questo nella storia nella sua storia grazie